Sindaco Giorgio Ferraris, sei mesi dalla tremenda alluvione che ha colpito Ormea, facciamo un bilancio? Il bilancio purtroppo non è molto positivo, nel senso che l'alluvione per fortuna non ha causato danni alle persone, ma ha causato danni enormi alle strutture, alle strutture viarie, ruscelli che hanno portato via dei pezzamenti di terreno enormi e non siamo riusciti sicuramente a ricostruire se non le cose più importanti. A oggi dove ci sono i residenti le strade sono tutte accessibili, ma abbiamo ancora molte borgate nella zona proprio fra Quarzine e Viozene dove molte case non sono raggiungibili. Adesso abbiamo avuto un primo stanziamento dal Dipartimento della Protezione Civile e in parte dalla Regione, ci consentirà di fare qualcosa, ma siamo molto molto lontani dalla copertura totale dei danni. Inoltre abbiamo il Tanaro che è in una condizione disastrosa perché questa alluvione ha creato ammassamenti di materiale legnoso e pietre in alcuni punti, ha scavato l'alvio in altri punti, provvederemo adesso a rafforzare un po' le scogliere e le difese che comunque quelle costruite nel 1994 hanno tenuto, ma quest'anno a differenza del 1994 abbiamo tanti danni in alto, abbiamo tanti danni nelle frazioni di montagne, abbiamo strade che sono versanti interi che sono franati a valle e quindi la situazione è ancora molto complicata. Arriva l'estante ma poi arriva l'inverno, quindi quali sono le sue preoccupazioni e qual è il suo appello? Le preoccupazioni sono quelle di non ritrovarci in autunno con situazioni come quella vissuta l'autunno scorso. Io ero già sindaco nel 1994 quando c'è stata l'alluvione del Tanaro e ricordo che gli studiosi dicevano che sono episodi che si verificano ogni 200 o 500 anni. Sono passati 20 anni, poco più, e ci siamo ritrovati con un fenomeno ancora più intenso e quindi questo ci preoccupa. Noi ci auguriamo prima dell'autunno di riuscire a mettere in sicurezza almeno le zone sul Tanaro e sugli affluenti principali. Non sappiamo se riusciremo a sistemare la viabilità sicuramente in molte borgate che rischiano di rimanere ancora con grosse difficoltà.